Il giornale Science Q News dice, scienziati in alarme, una guerra nucleare avrebbe impatti catastrofici sul nostro pianeta. Prepararsi al peggio. Fratello Giuseppe, una notizia che avrebbero dovuto sapere anche 50 anni fa questa. 50 anni fa? È dal giardino dell'Eden che devono saperla. Ma cosa vuoi fare? Questo è un mondo che ha rispinto Dio. Sono come dei ciechi bendati che brancolano nel buio, con la conoscenza di fare armi. Dopo quasi un secolo che giocano a fare armi atomiche, adesso i nostri grandissimi scienziati, dall'alto dei loro salari, sembra che ogni tanto, apparentemente qualche cosina non hanno capito, quasi. Adesso hanno capito che non è salutare per il nostro pianeta una guerra nucleare, ma come sono intelligenti. Ci hanno messo solamente un secolo a capirlo. Adesso la domanda è cosa fanno per fermarle queste guerre? Prima costruiscono il mostro di Frank Stein incontrollabile e poi dicono, ma sai, veramente, quasi quasi, vorremmo dire, con mezza bocca, per non disturbare le multinazionali che le costruiscono, che non è salutare fare una guerra atomica. Oh, su serio? E quando l'avete scoperto questo? Cioè, il branco dei pazzi chiamati classe politica si lamentano del clima e per questo vogliono alzare le tasse. È colpa dei cittadini che non pagano abbastanza tasse. Non sono le loro fabbriche che inquinano delle multinazionali, no, sono i cittadini. Ma cosa c'entra? I poveracci che si fanno una grigliata. Oh, quello lì, stiamo scherzando. Quelle mucche lì, uh. Dobbiamo abbattere tutte le mucche e mangiare i vermi, dicono. Però loro, con i loro yacht, cosa mangiano? Vermi? Ma, insomma, i pazzi ci sono sempre stati. Solo che adesso questi pazzi hanno giocato le atomici. E allora noi, fratelli, manteniamo i nostri occhi sul Signore, le profezie, la Bibbia, perché tutto il resto è solo fognatura del mondo. E questi cosiddetti esperti fognari pensano che con qualche guerra atomica tutto si sistemerà, ma logico. Lui c'hanno rifugi atomici, c'hanno qualche anno da mangiare, lì ce l'hanno, bottiglie di champagne, hanno messo tutto lì dentro. E loro dico, beh, noi ce la calveremo nel nostro rifugio, usciremo quando le radiazioni sono abbassate dopo qualche anno. Quelli fuori e quelli fuori, uè. Non contano niente, dobbiamo depopolarli. Per il bene del mondo, naturalmente, eh. Insomma, gli scienziati ati ci dicono che evolviamo da animali, no? E per questo da animali loro si comportano, loro. Noi veniamo da Dio, quindi il nostro esempio è Gesù Cristo. E noi credenti guadagniamo Genesi 1. Noi siamo credenti, noi sappiamo che la Bibbia dice il contrario. E che siamo stati creati a immagine di Dio. Verso 26. Genesi 1, 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Genesi 1, 26. Gloria a Dio. Nei rettili che strisciano, c'è compreso il diavolo, il serpente. E abbiamo... Amen. E dice che abbia dominio sui pesci del mare e sulle del cielo, i rettili che strisciano, e su tutti i diavoli. Dove lo dice tutti i diavoli? Luca 10, 19. Vi ha dato il potere di calpestare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Secondo Corinzi 3, 18. E noi tutti, contemplando... E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nell'istessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Secondo Corinzi 3, 18. Gloria, gloria a Dio. Il mondo che muore già si comporta come se fosse già cadavere. Si sono costruite le bare. Sono bare atomiche. E questo mondo tutto mira, tende al suicidio. Tutto. La politica, le finanze, le banche. Insomma, noi non crediamo al mondo ingannevole che perisce, ma a Dio, che non ha mai mentito. Non crediamo al mondo che non conosce la verità, ma al Signore che non conosce bugia. Il mondo può solo costruire prototipi meccanici e magari anche clonare. Cos'è clonare? È una specie di fotogopiare, insomma. Clonare la creazione di Dio, ossia povere imitazioni che muoiono. Ma quello che Dio fa, lo fa per sempre. Guarda, ti ho dato con la scrittura, dovresti vedere anche il Salmo 52. Sì, Salmo 52, verso 1. Perché ti glori del male, uomo potente? La benignità di Dio dura per sempre. Salmo 52, verso 1. Hai capito? Il mondo si gloria del male. Si gloria delle loro bombe atomiche, dei loro aborti, delle loro perversioni sessuali. Si gloriano del male. Ecclesiaste 3. Ecclesiaste 3, 14. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente veda aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ecclesiaste 3, 14. Il mondo passa, l'inquinamento aumenta, le guerre aumentano, le depressioni, i suicidi, il male aumenta. Ed è a termine, grazie a Dio che termina. Però quello che Dio fa è per sempre. Perché? Perché Lui ha amore. Quello che crea il Signore è sempre in amore ed è per sempre. Grazie Gesù. Guarda, in questo articolo lo stesso mondo ateo dice che il pianeta non può permettersi guerre nucleari. E perché si sono preparati alle guerre? Ciechi, stolti. Cioè, lo stesso mondo stolto lo sa che stanno giocando col fuoco. Ma siccome hanno respinto Gesù non sanno che pesci pigliare dove volgersi, dove sbattere la testa. E questa è la situazione attuale. Ma noi abbiamo Gesù. Noi sappiamo che abbiamo la salvezza. Noi sappiamo la verità. Noi sappiamo che qui se tutto va male noi andremo da Gesù. Se tutto salta noi andiamo dal Signore. Amen. Amen. Grazie a tutti.